Secondo giorno Questo è l'hotel E' un po' una figata direi I can't wait to smoke them all Hold back like marble Blow it in your face Blow it in your face Blow it in your, blow it in your face I can't wait to rev you up Faster than you can Oh my god, we're sitting in a film No 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 Qui siamo decidi non dove andare ma quasi Litica E' fantasticissimo, guardate Siamo al Rockefeller Center, infatti guardate La famosissima fontana E c'è ancora la pista da pattinaggio Cioè, incredibile E soprattutto Il top of the rock Qui i tombini fumano C'è qualcosa che non va in questa città Oh mio dio E' inquietante Siamo in America Anche l'Italia ha il suo posto negli States Al Rockefeller Center Siamo a Central Park Cazzo Che colore strano Non è verde E' marrone Sto stranissimo Vai a dire Ho appena realizzato che Tra i condomini I grattacieli che danno Su Central Park C'è La casa di Lady Gaga Che è esattamente questa qua Se non sbaglio Dovrebbe essere questo il suo edificio Dove sei Gaga adesso ti vengo a cercare Hihihi Se magari troviamo un chiosco mangiamo qua Io devo andare in bagno ragazzi Cioè E' un'emergenza Ciao 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 Allora Abbiamo preso il takeaway Cioè tipo il buffet E' io ho preso il macaroni e il formaggio Che sono famosi qua E' un po' di resto di schifezze Non lo so Uffa piove Non lo so Cioè Il Non lo so Non lo so Non lo so Sì! Quattro! Mamma mia! Wow! Wow! Quattro! Wow! I'm in un bel posto, credo. E quella è la Statua della Libertà, che è lontanissima da dove siamo noi. Sembra piccolissima. Dopo essere uscita dal Top of the Rock, tu pensi, beh, cos'altro potrà stupirmi? E poi, vedi, questo. Fanno le scarpe ai signori. Ok, come primo giorno ando abbastanza bene, cioè, ho già i viti distrutti, però abbiamo già visto un po' di Midtown soltanto, perché davvero il resto è enorme e mi sta piacendo un sacco, era proprio come me la immaginavo. La gente mi guarda, ops. E proprio come nei film, davvero uguale, identico. Adesso stiamo andando nella Public Library, che vuole andare a vedere mia mamma. cioccolata calda nella New York Public Library. è un'altra cosa che vuole andare a vedere mia mamma. Cioccolata calda nella Cosa. Oggi volevo un po' acculturarmi, devo parlare in silenzio perché c'è evidentemente molta gente che studia. E allora tra tutti i libri che ci sono io ho deciso di fare una lettura abbastanza leggera, molto interessante e istruttiva penso anche. Dovrò leggerli tutti penso. Ah, qui è l'università Chiara. Ciao proprio. E là c'è l'Empire. La dietro. E qui c'è il parco eh, attenzione. Questo è decisamente il posto più bello fino adesso, davvero fantastico. Non immaginavo niente che esistesse un posto così. Ed è il giardino della Public Library. Adesso ve lo faccio vedere. Io non ci posso credere che tutta questa roba è vera. Cioè è pacchianissimo. Beh tutti brillanti. ma è possibile che sia vera tutta questa roba? Oh my god, I literally don't understand anything. Yeah American. Very American. Prima cena a New York. Fish and chips. Shepard's pie. Anche il papo. Fish and chips. E buon appetito. L'Italia è ovunque, anche in USA. Evviva! Siamo a Times Square di sera. Cioè è decisamente uno dei posti più appollati e allo stesso tempo belle. E sembra davvero di stare al centro del mondo. Stiamo percorrendo adesso Broadway, che è la strada dei teatri. Ed è praticamente contigua rispetto a Times Square ed è bella anche questa. Continua dire che tutto è bello, ma è vero. È tutto bello. Ciao! Grazie a tutti.